Un'esplosione spontanea e contagiosa di entusiasmo, animato da una fede genuina. Papa Francesco è atterrato nelle Filippine per il suo pellegrinaggio sul tema misericordia e compassione. All'aeroporto di Manila, giovedì sera, la gioia dei giovani che hanno accolto il Pontefice ha dato la misura del viaggio, il cui primo evento è stato venerdì al Palazzo Presidenziale per l'incontro con le autorità e il corpo diplomatico. Qui Papa Bergoglio ha espresso anzitutto vicinanza a quanti hanno patito, le sofferenze e i danni causati dal tifone Yolanda, un disastro che si associa purtroppo ad altre forme di devastazione come la povertà, la corruzione e l'esclusione sociale. Proprio in questo contesto Papa Francesco ha voluto lanciare un appello ai dirigenti politici che si dovrebbero distinguere per onestà, integrità e responsabilità verso il bene comune. Nell'anno dei poveri, proclamato dalla Chiesa locale, ha giunto il Pontefice e quanto mai urgente ascoltare la voce di quanti sono apparentemente invisibili per la società e spezzare le catene dell'ingiustizia e dell'oppressione con un occhio di riguardo per le famiglie.